Musica Ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana prima della pausa estiva. La settimana densa di impegni per l'Aula di Palazzo del Pegaso che ha affrontato i temi economici con l'aggiornamento del documento di economia e finanza e la variazione di bilancio. Manovra che va ad integrare i fondi in arrivo dall'Unione Europea. Una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della regione toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa appunto ai fondi FEAS e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione e che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la regione toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia. Andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico. In particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti, su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale che è quello della viabilità pubblica attraverso una serie di misure di sostegno che vanno ai territori, agli enti locali, soprattutto con misure imponenti che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa. Passaggio fondamentale, dice Italia Viva, che aveva chiesto di approvare la manovra prima della pausa estiva. Era doveroso perché i Comuni aspettano risorse dalla Regione, le imprese le aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna. Tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la candidarizzazione e la versione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti. Sui tempi invece sono critiche le opposizioni di centrodestra. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla Capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo. Perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. Da quel poco che abbiamo visto, parole al vento e anche malfatte. Faccio un esempio su tutte. L'aspetto sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove. Sulla sanità, se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19. Cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali. Il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tramvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana. Che è una follia, è un'infrastruttura che a Firenze ha canterizzato la città per 11 anni per collegare ancora oggi un terzo di città, la vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia. Cioè forse nel 2090 con questi ritmi avremo un sistema di collegamento. Mancano le risorse per la ripresa, attacca Forza Italia. Non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della regione toscana. È una legge mancia. Le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali. Pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della regione toscana. Mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese che nella nostra regione, il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. La Toscana, secondo i dati della Banca d'Italia, è la prima regione in Italia ad essere stata duramente colpita. Abbiamo perso il 13,8% del nostro prodotto interno lordo e come si pensa di aiutare le imprese dando le mancette? Ecco, noi siamo contrari a questo modo di fare politica. Un no convinto arriva anche dal Movimento 5 Stelle. Perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso, proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici, probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PETS, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori. Invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori straordinarie, in realtà ordinarie perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. Se ne riparlerà alla ripresa, la nuova legge regionale sulle case popolari sarà discussa nella prima seduta di settembre. Slittano le modifiche all'attuale normativa per la battaglia politica tra maggioranza e Lega, un rinvio di cui il PD accusa proprio la Lega. Un rinvio che provoca sicuramente un danno alle amministrazioni comunali che si vedono costrette a ritardare la pubblicazione di bandi per costruire le gradatorie oppure a farli con il rischio di impugnative. E soprattutto penalizza le famiglie che hanno i requisiti per poter fare la domanda e vedersi assegnare una casa popolare entrando in gradatoria e che invece sono costrette ad aspettare. Il tutto ruota intorno al criterio presente nell'attuale legge del requisito che fissa in cinque anni la residenza in Toscana. requisito presente in forme diverse anche in altre normative regionali che la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo. È il caso della Lombardia. Da qui la volontà, pur in assenza di un'impugnatura della legge toscana, di modificare la normativa. Non più un requisito ma un criterio di premialità. La legge toscana aveva una norma che prevedeva cinque anni di residenza lavorativa o anagrafica in Toscana per poter accedere alle case popolari. In realtà le normative prodotte in Lombardia e in Abruzzo hanno fatto sì che la consulta, la Corte intervenisse per togliere queste soglie. Noi le abbiamo legittimamente trasformate in una premialità per quanto riguarda la permanenza in Toscana ma con una premialità che non andasse ad intaccare quelle che sono invece le parità di diritti. La Lega ha così presentato oltre 2.000 emendamenti motivo del rinvio a settembre ma respinge l'accusa di aver provocato il blocco dei bandi. I bandi si possono fare, la nostra legge è vigente, non è impugnata, non è oggetto di sentenza quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più, le graduatorie in essere possono scorrere perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. Le case popolari possono essere assegnate e spero che tutti i sindaci lo facciano perché ci sono molte, troppe persone che aspettano da anni se non da decenni. Cosa non va bene nella proposta della nuova normativa? Da oggi con quella proposta di legge, se passasse, chi è qui alla residenza da un giorno può chiedere l'alloggio popolare. Ovviamente noi italiani, come tutti sanno, siamo molto controllati dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista finanziario quindi basta un piccolo controllo per sapere se qualcuno di noi chiede la casa popolare e non ha i requisiti per chiederla. Mentre chi arriva, è arrivato da un giorno lo deve accertare il paese di origine e questo per un principio di equità non perché, come qualcuno vuol far passare, siamo cattivi o siamo razzisti perché questa legge penalizza anche gli stranieri che sono qui da 3, 4, 5 anni, non solo gli italiani. Tre sono comunque gli emendamenti su cui punta la Lega. Continuiamo a mantenere vivo il fatto che per l'accesso alle case popolari sia importante la cittadinanza di 3 anni italiana e la residenza in Toscana di almeno un anno. Questo è uno degli emendamenti perché credo che sia giusto premiare chi è sul territorio, chi si trova in Toscana da così tanto tempo e che ha contribuito con le tasse in questi 3 anni allo sviluppo della regione. Va fatta poi la verifica della situazione patrimoniale di tutti i richiedenti che siano comunitario ed extracomunitario dice la Lega infine un criterio di premialità. Terzo, è una cosa innovativa però abbiamo fatto un ragionamento. Io vengo dalle case popolari da Piazzale Genova numero 6 a Pisa ed è logico che la conoscenza della lingua italiana secondo me agevola. Forza Italia annuncia propri emendamenti per ribadire, dice il capogruppo, un principio. Fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani cioè a chi sta in questo paese da più di 10 anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica 70 sono extracomunitari. A maggior ragione in un momento difficile come questo dove c'è tutta una fascia grigia che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case e poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica. Il rinvio della legge non è una cosa positiva dice Fratelli d'Italia il cui lavoro in commissione sottolinea il consigliere Petrucci ha portato a una modifica importante del testo che arriverà in aula. Abbiamo fatto un lavoro importante in commissione ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante. Giusto modificare l'attuale normativa secondo il Movimento 5 Stelle. La legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più. A favore del testo che verrà presentato in aula a settembre si dice Italia Viva. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge a mio avviso ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari concertata, discussa e arrivata in fondo si tratta di migliorarla da dove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è perché comunque comprende anche delle nostre richieste quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno 5 anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione consentendo comunque a tutti di fare domanda dando un principio importante mantenendo un principio solidaristico importante cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno ma nel frattempo consentire magari anche alla cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni Pausa estiva adesso per il Consiglio regionale l'Aula tornerà a riunirsi a inizio settembre e sarà una ripresa densa di temi importanti come sottolinea il Presidente Antonio Mazzeo Innanzitutto consentitemi di ringraziare gli uffici tutti del Consiglio della Giunta è stata una settimana intensa frutto di un grande supporto da parte degli uffici ringraziare tutti i colleghi per l'impegno e la dedizione che ci hanno messo in questi mesi difficili della pandemia ci aspetterà un inizio intenso pieno di temi importanti si parlerà dell'ERP si parlerà dei fondi strutturali cosa chiederemo all'Europa come potremo permettere alla Toscana di ripartire più veloce si parlerà del piano dell'economia circolare perché una regione che vuole competere deve avere la capacità di saper smaltire di saper riciclare tutto quello che produce nel proprio territorio insomma sarà un settembre caldo e poi all'ordine del giorno come sapete ci sarà la modifica dello statuto che abbiamo deciso di calendarizzare subito al rientro a Grazie per la visione!